. Gli ascolti TV e i dati Auditel di domenica pomeriggio 9 dicembre 2018 vedono tornare alla carica le tre prime donne del Didi Festa, Mara Venier, Barbara D'Urso e Cristina Parodi.Particolarmente infuocata la disfida tra le prime due, che ieri pomeriggio ha conosciuto nuove battaglie a colpi di share. Chi ha vinto e chi ha perso fra sia Mara e Barbarella? Secondo i dati ufficiali, ieri pomeriggio su Rai 1 Domenica in ha totalizzato 2.825.000 spettatori pari a uno share del 17,8%, nella prima parte, e 2.245.000 spettatori pari a uno share del 15,7%, nella seconda parte. A seguire la prima volta, con Cristina Parodi si è fermata a 1.806.000 spettatori pari all'11,5%. Sempre secondo i dati ufficiali, su Canale 5, Domenica Live ha conquistato 2.076.000 spettatori 12,8% con presentazione dalle 13,59 alle 14,19, 2.411.016,5% con l'attualità dalle 14,22 alle 16,56, 2.634.000 spettatori 18,4% con le storie dalle 16,59 alle 17,27, 2.399.000 spettatori 16,1% dalle 17,31 alle 17,54, 2.614.000 spettatori 16,5% dalle 17,59 alle 18,22 e 2.311.000 spettatori 14,1% dalle 18,28 alle 18,38 con la politica. Secondo i dati ufficiali, la sovrapposizione vedrebbe Mara Veniera al 16,36% con 2.409.000 spettatori contro il 16,26% di share e 2.394.000 spettatori di Barbara D'Urso. Di nuovo un sostanziale testa a testa, insomma. Anche se ci sarebbe da tenere conto il fatto che Domenica è in parte con 8 punti di vantaggio rispetto a Domenica Live e nella prima ora non va mai in pubblicità, mentre il programma di Canale 5 prevede ben due lunghi break pubblicitari.7 giorni fa, secondo i dati ufficiali, su Rai 1 Domenica in totalizzava il 17,1% con 2.824.000 spettatori nella prima parte in onda dalle 13,58 alle 14,53 e il 16,3% con 2.440.000 spettatori nella seconda, in onda dalle 14.000 spettatori. Grazie a tutti! Grazie a tutti!